musica 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 mamma mia leccatemelo musica oh ti ha fatto il bagno nella mia granata madonna faccio diventare ricchi fisioterapisti con tutti sti nabbi necrogiolo girate un po livello 8 di merda oh eh mi devi guardare in faccia mentre ti tiro le spallate ma lei ha un livello 8 sandwichato in una maniera ciao bello alex andro ciao bello pure a te e il terzo aperti bisciottato no la finiamo così a spallare nelle gengive la finiamo così a spallare sulle gengive sul livello 8 bella mappa del cazzo mamma mia oh sta là in fondo la mappa ma glia volete sparare? cristo dino eh cosa? quanto lagga gio pelè dai secchi abbiamo per 3 eh per 3 par de palle bravo insomma l'hai presi che che mi rompi i coglioni da là dietro livello 1 livello 1 di merda devi rimanere al tuo posto che fai? mi diri una scarpa? si lo so che sto a strillare mi fanno loro del culo adesso ancora le 11 non è vero manco solo le 11 ho salvato il culo ah quello puoi attivare i pugni addosso alla freccia ma c'hai il ritardo mentale nel cervello dai fai da secchi aspetta morto morto ho fatto il bagno della mia granata seee vanno a dice proviamo un livello 6 stavolta una luce 192 una al 96 di luce una al 35 di luce una al 123 e un'altra al 123 questa mappa non usciva veramente da un'eternità per una volta che sono pieno di nabbi in lobby gola della legione si si fatti il bagnetto no pure lui mi volava a fare il bagnetto dove vai il livellino? mi ha proprio una spallata in bocca manco mi ha visto vieni qui titano vieni qui titano che cosa ho fatto? ho sparato all'aria è questo? ma sta in mezzo alle fratte ma facciamo che glielo di fianco ciao belli pure te te ne vai ciao mena c'è ne uno dietro ti salvo io assolutamente oh ok ho shotato l'altra ho shotato l'altra ma no lei non deve passare sotto ma dove guarda con quel lanciarazzi signore? alba questo alba parietti e mo tiro una granata mentre sto sto qua ma niente l'ho ritirato un'altra pariettina dai basta con sto pompa mi hanno ucciso solo con quello che si maneggia ma posso entrare? si è aperta la porta sta po' spallato dai guarda ci hanno recuperato ma com'è possibile? perchè non riescano a teneste bandiere? cristo dio come sono in vantaggio e stanno a ripia b ma non è possibile stanno a perdere io non c'è credo che stanno a perdere con ste persone e beh noi hanno acquittato io non ci credo dai ma come zona persa li andiamo a piastra cazzo di b bobbina no dai io non posso perdere con ste persone qui so di 9 kill 8 kill 9 8 8 8 8 kill ma come fanno a far così cagare quello è il 391 posso capire il livello 12 quello è il 391 eeeh quanto lagga nella mia granata arrivo con lanciagranate what? no guarda quanto lagga ci macchio questi sono un gruppo da 3 stanno fermi a camperare vediamo se non passa e batte perchè mi ero del culo col bobina no dai bobina giocate state scherzando ma vaffa culo livello 17 di merda col compa no livello 17 andavo pure a te tu tizio 12 di merda fermo sulla bandiera devi stare sulla bandiera che era no eh non ce va lagga questo lagga questo cosa ha tirato la freccia ma quando questo è un genio vabbè ma come si fa a giocare contro questo no almeno il livello 17 crepa subito 10? eeeh vabbè vabbè ci macchio lagga troppo però lui ti colpisce solo sotto tortura ti puoi muovere questo lagga ne uccido 3 e arriva il quarto da dietro eeeh vabbè dai dai cosa dai non mi può uccidere il livello 10 così laggano da far schifo io non posso perdere questa gente oh riesce sempre a darmi il corpo a corpo quando gli faccio la spallata questo è infinino confusione l'abbiamo dovuta perde 35 21 9 9 hai fatto 9 3 con un colpo 3 con un colpo di telesto mena no lagga dj oballa lagga erano tutti e 3 gli scarsi del team contro mena io ho tirato un corpo di telesto dietro secchio dietro eeeh non c'è arriva al al caldo occhio e stranamente simulatore dormiente mi hanno stato ucciso col simulatore dormiente ok e stranamente siamo sotto infatti oh ma ciao il livellino ma lei è qua dentro mena la odio no sai cosa se due bastoni si scontano vengono si spingono vicenda che merda no ma questo non lagga chissà come mai eh oh che cazzo vuoi fa luis livello 9 ciao insegna agli angeli ce n'è uno secchia what vabbè navica navica nella mia granata a livello 4 di merda vabbè vai dj oballa lagga doppia ahahah fifa cxxx quello ha fatto un collater la lascia stare mio amico mamma mia così si trattano i livellini se 46良 o si maltrattati livello 9 livello 9 Bali signori per il video di oggi è tutto sfruttate l'occasione per andare in croggiolo e sperare di non avere i novellini in squadra insieme per aprirgli il culo e non fargli comprare più DLC di adesso